buonasera buonasera a tutti allora a due ore da questa finale tanto attesa anche dagli juventini comunque finale attesa per cercare di anche in minima parte io direi io direi realmente minima parte perché comunque è sempre una coppa italia però cercare in minima parte di risollevare una stagione decadente per salvare salvare tra parentesi una stagione del tutto negativa lo possiamo dire no è negativa la juventus era partita con la speranza di e soprattutto con la con la voglia e soprattutto con come dire era convinta anche quest'anno di riuscire nell'impresa riuscita nell'inter nel 2010 di fare questo triplete di centrare questo di prete invece ha fallito su tutti i piani su tutti gli ambiti e quindi ecco la coppa italia è l'unica ormai alternativa per salvare una stagione disastrosa e negativa inutile a dire a prescindere dai 29 gol di cristiano ronaldo in campionato le 28 29 non so non ricordo bene quando ne abbia fatti quanti ma ciò non ciò non va a influire sulla stagione negativa un po di tutti anche di cristiano ronaldo stesso che nonostante i 28 29 gol ha in diverse prestazioni ha giocato da quattro e ha giocato realmente male quindi anche lui ha peccato la juventus arriva a questa finale ovviamente la juventus ne ha fatte tantissime di finali di coppa italia ne ha vinte allo stesso modo tante va incontro gioca contro l'atlanta che a parer mio nonostante l'inter abbia vinto il stretto io sono interista l'atlanta è la squadra che ha il gioco migliore ha un attacco realmente prolifico un attacco fortissimo una squadra che ha un grande gioco corale una squadra che comunque ormai è un po che calca palcoscenici importanti quali quelli della coppa campioni la champions league ormai abituata anche a quelle quindi si sta abituando anche l'atlanta stessa a calcare manifestazioni importanti la coppa italia di certo non è la champions league ma è sempre una manifestazione importante specie per l'atlanta che comunque nella sua bacheca non ha grandi grandi vittori quindi anche una coppa italia per l'atlanta sarebbe un grandissimo un grandissimo evento un grandissimo passo in avanti di certo le motivazioni dell'atlanta sono tante sono a parer mio sono motivazioni maggiori rispetto a quelle della juventus ovviamente ho detto che la juventus l'unica motivazione che di questa sera che può avere la juventus l'unica motivazione è quella del salvare salvare sempre tra parentesi una stagione fallimentare quindi la coppa italia sarebbe questo questo un poco ossigilo rimandato alla squadra ma realmente poco perché ripeto se per la juventus la coppa italia è un evento riconducibile a poco è diverso diciamo per l'atlanta e quindi le motivazioni dell'atlanta sono realmente maggiori a parer mio rispetto a quella della juventus l'atlanta questa sera si dice che proporrà un attacco a tre e la juventus anche la juventus giocherà con cristiano ronaldo di bala e mi sfugge il terzo comunque diciamo tre attaccanti giocherà poi l'atlanta anche con quei tre attaccanti zapata sicuramente poi c'è indecisione sul sul resto dell'attacco c'è molta indecisione ma di certo anche l'atlanta giocherà a viso molto a viso aperto e giocherà molto all'attacco che tanto le partite secche si sa che o giochi per vincerle in attacco o se giochi per difenderle o le perdi o arrivi ai rigori e poi gli è sempre una lotteria quindi si cerca sempre di mettere la squadra più propensa per l'attacco quindi per mettere paura all'avversario che cercare di fare la partita per portare un risultato minimo a casa anche perché il risultato minimo non lo vuoi portare qui è o vittoria o sconfitta per concludere quello che voglio dirvi è che sento molti juventini che tifosi da quattro soldi che adesso stanno prendendo questa partita come fosse una finale di champions league ricordiamo a questi tifosi da quattro soldi juventini che questa non è una finale di champions league a tutti effetti è una finale di coppa italia e pur sembra una finale ma è la finale di coppa italia quindi cioè dovremmo essere un pochettino più specifici e soprattutto dovremmo dovremmo tutti riscendere un po su questo pianeta terra e capire che questa è una finale di coppa italia e non è la finale di champions league quindi non non che se questa sera la juventus dovesse vincere questa partita per sette dieci giorni dobbiamo stare a sentire che la juventus ha vinto la coppa italia e ha fatto una stagione positiva perché nonostante ipoteticamente vincesse la coppa italia ripeto la stagione della vivendus rimarrebbe del tutto negativa sia per tutto ciò che si era prefissata già che si è prefissata da tre anni a questa parte che non riusciva a mettere in porto che la coppa campioni di per sé ma in più c'è anche l'aggravante che se prima quegli scudettini sono arrivati senza concorrenza senza squadre di un certo grado un attimino che le squadre di un certo rango e grado sono risalite la juventus ha perso al terzo anno anche lo scudetto e quindi diciamo la coppa italia non è la panacea la panacea di tutti i mali di questa squadra che sicuramente questa squadra andrà di certo a rimuoversi sul mercato quindi sia a vendere dei giocatori e sia nel rimuoversi quindi nel prendere giocatori nuovi a parer mio io un giocatore come cristiano ronaldo lo darei via a tutti gli effetti a questo punto perché nonostante i 29 gol torna a ripetere cristiano ronaldo è un giocatore che non fa spogliatoio ma che soprattutto lo scombussola lo spogliatoio perché lui gioca per se stesso e non per la squadra quindi quando lui gioca male fa riflettere tutto il suo disappunto sulla squadra e quindi non è felice non essendo felice è come un bambino che a cui viene rubato il gioco tende poi a creare scompiglio e di certo non aiuta la squadra quindi a parer mio da quando cristiano ronaldo era vivendo se la vivendo se è peggiorata a livello di gioco a livello di tutto e anche di mentalità perché ripeto lui crea scompiglio è un giocatore che se gioca bene è felice se gioca male e non è felice e soprattutto lo fa riflettere alla squadra perché come i bimbi piccoli punta il dito magari dei punti riguardante le sue prestazioni magari non ottimali punta il dito sulla squadra e non su se stesso un giocatore un po così non mi è mai piaciuto per per questo per concludere ultima cosa mi auguro che sia una bella partita e ve lo dico sinceramente io auspico per una partita bella perché comunque l'Atlanta gioca bene la vivendo anche se non gioca bene comunque ha sempre dei grandi giocatori quindi poi comunque con una squadra come l'Atlanta che sa giocare sarà di certo una bella partita e mi auguro io lo dico da interista voglio essere un attimo tifoso mi auguro che venga l'Atlanta ma non perché parlo di Juventus e voglio che Juventus perda voglio preferirei che vincesse l'Atlanta perché comunque l'Atlanta non ha avuto mai delle soddisfazioni cioè nel senso un trofeo da alzare non l'ho visto mai alzare un trofeo quindi sarebbe bello che l'Atlanta riuscisse ad alzare questa Coppa Italia giocando bene meritando questo e quanto altro ovviamente perché se gioca male gioca da schifo è meglio che lo vinci in cala Juventus chi gioca meglio deve vincere quindi chi meriterà la vittoria è giusto che poi alzi la Coppa e mi auguro che questa squadra questa sera sia l'Atlanta non perché l'Atlanta non debba vincere ma perché l'Atlanta non l'ha mai vinto ed è giusto per la mole di gioco che sta producendo in tutta questa annata per le grandi prestazioni soprattutto per l'inalzarsi anche del livello di squadra perché è una squadra comunque che anche a livello di nome di prestigio sta crescendo perché ripeto è tre anni che va in Champions l'Atlanta quindi sarebbe un grandissimo passo in avanti per questa squadra e mi auguro che ciò avvenga con ciò ragazzi io vi saluto vi auguro una buona serata e vedremo come andrà a finire la partita ovviamente ciao